Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. In questo video voglio fare la mia recensione dell'exchange BitGet che potete vedere a schermo, trovate tutti i link in descrizione per iscrivervi a questo exchange che vi permette di fare trading di criptovalute. In particolare in questo video mi voglio concentrare su tre particolari funzionalità la funzionalità trading, spiegando un po' come funziona la piattaforma la funzionalità earn e il launchpad. Quindi, sigla e iniziamo subito. Prima di iniziare se sei nuovo sul canale, io mi chiamo Leonardo parlo di finanza personale, investimenti e business. Su questo canale ho da oltre 4 anni. Se ti interessano questi argomenti ti invito a iscriverti e attivare la campana di notifica per non perderti nessuno dei miei prossimi video. Partiamo quindi con la piattaforma. Molto velocemente, perché la piattaforma è piuttosto semplice questi sono i tre pulsanti principali quando siamo nella home page di fatto la dashboard, poi c'è la serie di ordine che abbiamo fatto a livello di trading di criptovalute e poi c'è il nostro portafoglio a livello di asset. Andando ad esempio ad aprire la pagina relativa agli asset, come potete vedere in questo momento ho circa 182,88 euro che corrispondono a 200 USDT. In generale su questo exchange ci sono diversi tipi di portafoglio quindi conto spot, margine che non ho utilizzato conto earn probabilmente il più interessante per quanto riguarda la mia opinione personale. Guardiamo anche velocemente la dashboard Bigget ha molte funzionalità e continuamente vengono proposte nuove iniziative per gli investitori come giochi a premi, come opportunità di investimento nuove lo vedremo tra pochissimo con il launchpad Insomma, Bigget è una realtà molto attiva non l'ho detto ma Bigget è uno degli exchange più sviluppati e di maggiori dimensioni a livello mondiale per quanto riguarda il trading di criptovalute Passiamo quindi alla funzionalità di trading possiamo fare trading sui futures io non utilizzo personalmente questi tipi di strumenti oppure possiamo fare spot trading, ovvero trading diretto di criptovalute Andando a vedere la piattaforma di trading come possiamo vedere partendo da sinistra qui sono presenti tutte le coppie scambiabili, tradabili per quanto riguarda USDT, la stablecoin che replica l'andamento del dollaro quindi sono, come potete vedere, probabilmente una cinquantina se non di più oppure c'è la possibilità di fare trading di bitcoin con una quindicina di altre criptovalute in questo caso la piattaforma è collegata a quello che mi pare essere TradingView esatto, quindi possiamo vedere l'andamento grafico di bitcoin sul dollaro diciamo così in realtà sui USDT come ben sapranno coloro che hanno investito in criptovalute nel corso del 2021 e 2022 tra novembre del 2021 e la fine del 2022 sostanzialmente bitcoin ha perso il 60% plus del proprio valore negli ultimi tre mesi, quindi dal 2023 c'è stato un recupero dell'80% e voglio far notare ancora una volta che meno 60% più 80% non significa assolutamente aver recuperato con dei profitti il prezzo di partenza per recuperare un meno 80% ad esempio dobbiamo fare un più 400% c'è la possibilità in questa schermata quindi di andare a fare trading e ad esempio acquistare bitcoin quindi io posso acquistare fino a 198,64 USDT o al momento 200 USDT all'interno di questo portale come potete vedere la mia disponibilità è questa in questo momento qui a destra invece vediamo la serie di ordini, il registro degli ordini viene definito così quindi sono tutti gli ordini attivi in questo momento bitcoin, USDT e il mercato è piuttosto dinamico gli ordini cambiano continuamente, vengono aggiornati, vengono creati di nuovi ordini probabilmente ci sono delle strategie di trading automatico continuamente in esecuzione infine sotto sono presenti l'elenco degli ordini aperti la cronologia degli ordini e i dettagli degli ordini in questo momento non ho degli ordini attivi passiamo adesso a forse la funzionalità più interessante per quanto riguarda le entrate passive con le criptovalute ovvero l'earn possiamo selezionare diverse tipologie e in questo caso andiamo a selezionare panoramica per vedere quali sono le tipologie di earning disponibili su Bitget c'è la possibilità di utilizzare risparmi Bitget coin BGB earn quindi la criptovaluta sulla quale si basa Bitget possiamo guadagnare attraverso questa criptovaluta possiamo guadagnare attraverso il token BGB launch pool del quale parliamo tra pochissimo sharfing che non ho mai utilizzato e che vediamo velocemente tra poco entrando nella sezione risparmi come potete vedere possiamo ottenere un rendimento depositando le nostre criptovalute in questa funzionalità earn con gli USDT possiamo ottenere l'8% di rendimento annuo avendo un'iscrizione flessibile cosa significa? possiamo prelevare i soldi, gli USDT in questo caso senza attendere del tempo e in ogni momento ci sono diversi piani il tasso di livello ad esempio è l'8% per il flessibile voglio sottolineare che l'8% vale solamente per il livello 1 quindi fino a 100 USDT dal centesimo al cinquemillesimo il rendimento è 0,80% quindi probabilmente non otterrete l'8% se depositate più di 100 USDT facendo un vero e proprio staking di 30 giorni di USDT si ottiene un rendimento pari al 2,80% mentre per quanto riguarda lo staking di 60 giorni il rendimento sale al 3,10% in questo momento è così per quanto riguarda Bitcoin c'è la possibilità di fare uno staking flessibile all'8% con questo burning prodotto caldo che termina tra un giorno oppure c'è la possibilità di ottenere un rendimento dell'1,09% depositando Bitcoin in maniera flessibile quindi prelevabili in ogni momento qui sotto ci sono vari altri rendimenti mi raccomando fate sempre attenzione che magari non sarà all'8% infatti passa al 4% selezione flessibile in più al di sopra di 0,1 Ethereum otteniamo lo 0,08% di rendimento annuo quindi facciamo attenzione e in generale per le varie tipologie di criptovalute che vedete qui a sinistra c'è la possibilità di ottenere un rendimento sostanzialmente senza fare un granché per quanto riguarda i BGB Earn qui possiamo andare a depositare BGB e guadagnarli con un rendimento annuo del 6% del 3,5% ma purtroppo nel momento in cui sto registrando questo video entrambi i prodotti sono esauriti quindi non posso fare un granché per quanto riguarda il launchpool c'è la possibilità e di tanto in tanto nascono dei nuovi launchpool come potete vedere qui scaduti in vari giorni viene tradotto in piscina mi fa abbastanza ridere ma va bene lo stesso andando a puntare BGB puntare Bitcoin puntare Ethereum possiamo guadagnare in questo caso Dejen che dovrebbe essere una shitcoin probabilmente quindi not financial advice ciò che avviene è che in funzione di quanto andiamo a depositare quale criptovalute andiamo a depositare e per quanto tempo depositiamo otteniamo una ricompensa in Dejen in funzione anche della ricompensa totale stabilita nell'evento in questo caso 90% da milioni infine andiamo a vedere Sharkfin non conosco questo strumento andiamo a leggere le FAQ BGB Sharkfin è un prodotto patrimoniale strutturato capitale garantito si tratta di un prodotto finanziario innovativo che combina prodotti a reddito fisso e derivati finanziari la funzionalità Sharkfin ti permette di ottenere un rendimento variabile a seconda che il prezzo di Bitcoin ad esempio sia più alto o più basso o stia all'interno di un certo collare di prezzo questi rendimenti sono differenti in funzione del prezzo della criptovaluta di base e del tipo di evento stesso passiamo adesso all'ultima parte del video nella quale parlerò del launchpad e anche in questo caso possiamo investire in sostanzialmente startup di criptovalute definiamole così ovvero progetti che vengono lanciati all'interno di Bitcoin una volta ogni uno o due mesi l'ultimo è ZZZ che è terminato pochi minuti fa in realtà sì pochi minuti fa Halo era un precedente progetto che è terminato a inizio marzo BBO è terminato a metà febbraio insomma in questi progetti possiamo andare a depositare delle criptovalute abbiamo dei biglietti convertibili sono pari a 9000 abbiamo avuto 42.630 partecipanti e un prezzo di conversione rispetto al BGB pari a 0.06 il prezzo al quale possiamo tenere i token nel launchpad è stabilito a priori rispetto al lancio sul mercato secondario dei token che ovviamente quando saranno tradabili pubblicamente subiranno una variazione di prezzo in funzione della domanda e dell'offerta del mercato in sostanza andando a leggere le FAQ come funziona il launchpad qui il punto 2 è piuttosto chiaro il launchpad widget è condotto in un formato a sottoscrizione possiamo partecipare detenendo certi tipi di asset o facendo certi tipi di scambi quindi trading di criptovalute per ricevere dei ticket della lotteria e ottenere la possibilità di acquistare dei tokens nell'early stage quindi nel lancio con l'utilizzo dei token widget in definitiva più abbiamo all'interno della piattaforma più facciamo trading più è probabile ottenere dei ticket della lotteria in questo caso per l'ottenimento di nuove criptovalute nell'exchange personalmente non sono troppo estasiato da queste funzionalità in effetti non le utilizzo però se siete interessati a partecipare a questi progetti Bitget vi permette di farlo è una funzionalità che non impatta sulle altre funzionalità principali perciò è meglio averne uno in più che non uno in meno ecco quindi come funziona Bitget per quanto riguarda la piattaforma e le principali funzionalità io personalmente sono interessato al trading nel momento in cui voglio fare trading di criptovalute oppure avere il possesso di una cripto piuttosto che un'altra oppure learning per generare delle entrate passive con le mie criptovalute ancora una volta vi ricordo che se volete iscrivervi su Bitget potete trovare il link in descrizione al video utilizzate Bitget fatemi sapere sempre con un commento sotto al video per il resto il video finisce qui grazie mille per aver guardato noi ci vediamo al prossimo video buon investimento